Hanno spruzzato una vernice di colore giallo ad un gatto e quest'ultimo è morto poco dopo tempo Si chiamava Migeni, aveva 13 anni d'età, è morto tre giorni dopo essere stato preso di mira da dei bulli dei personaggi a Bill Benken in Svizzera, Arcofiene con la Francia La proprietaria del gatto, che si chiama Sina Kunz, ha ovviamente segnalato all'attualità competente i fatti mostrando anche nei social network le immagini del suo meraviglioso gatto come era stato ridotto Appare malconcio il pelo visibilmente strafatto, meglio disordinato il colore del pelo stesso, di questo chiamiamolo giallo o palescente La donna ha notato che era letteralmente ricoperto di vernice quando è tornato a casa, chiaramente il gatto, l'animale è anziano, ha riflessi lenti E' stato un facilissimo bersaglio per quei personaggi che lo hanno dipinto di questo colore qua La vernice è stata innata dal micio, è stata fatale, la donna l'ha portata al veterinario, ma niente da fare, purtroppo è morto L'intossicazione ha creato la morte Sott'accusa un vicino di casa, accusato di maltrattamento e tortura sugli animali Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, attresi per la visione Datemi la vostra opinione, mi raccomando Un cordiale saluto a voi Mijeri, riposi in pace, Amen